Sì, tra l'altro è questo. Io ho avuto un altro slide che non ho voluto far vedere, era solo scritto, in realtà c'è una mano che è anche l'autorevolezza. L'autorevolezza che, in teoria, dovrebbe venire dal fatto che essere professionisti dell'informazione dovrebbe essere una garanzia di non avere informazioni corrette. E anche la professoressa non inizia l'informazione. Esattamente. La professoressa non inizia l'informazione. 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 Grazie.